Aumentano i contagi per Covid, come il numero dei ricoveri, in particolare nelle terapie intensive, dove i pazienti in una settimana sono raddoppiati da 6 a 12, sono 14 decessi. I numeri del bollettino settimanale di ieri tornano a intimorire. Nella nostra regione 6.800 nuovi contagi, di cui 1.128 reinfezioni. In sette giorni i casi sono cresciuti quasi del 15%, in un mese del 42%. Il direttore dell'Unità Operativa Complessa di Virologia e Microbiologia dell'ospedale di Piascara, Paolo Fazzi, spiega che... Il problema è che comunque c'è una grossa circolazione del virus e quindi c'è una quota, anche se bassa, di soggetti che comunque può sviluppare la polonite intestiziale. Sono sempre i soliti soggetti fragili, soggetti anziani con delle comorbidità, ma noi dobbiamo proteggere anche loro. Quindi far circolare questo virus non va bene. Professore, i ricoveri sono aumentati in ospedale? Sì, stanno aumentando gradualmente, ma era abbastanza prevedibile. Probabilmente aumenteranno sempre di più, poi probabilmente si arriverà a una specie di picco, platore, non saprei come definirlo, nel periodo natalizio, anche perché comincia l'inverno, quindi farà più freddo. Ci sarà modo di incontrarsi in gruppi sempre più numerosi. Potrebbero venire dei mutanti più pericolosi, la gente non si sta vaccinando, la mascherina non la porta più nessuno. Ci sono tante situazioni che fanno pensare che dal periodo natalizio in poi, in periodo invernale, questo virus possa diventare ancora più circolante e rappresentare una preoccupazione in più, soprattutto per i fragili. Intanto ci si mette anche l'influenza, quest'anno particolarmente dura. Come distinguere influenza da Covid? C'è bisogno del tampone? Sì, perché nella fase iniziale tu hai una sindrome influenzale, quindi febbre, disturbi a livello delle prime vie respiratorie. Non si può dire, sicuramente solo il tampone ce lo può dire. Abbiamo trovato anche rarissimamente dei casi con delle coinfezioni, cioè soggetti che hanno avuto sia Covid che influenza virusale contemporaneamente. Sono eventi rari, però sono stati osservati anche da noi. Il futuro come lo vede? Sicuramente oramai ci troviamo nella fase della pandemia migliore. C'è una fase che ci porterà gradualmente a convivere con un virus che sempre di più si depotenzierà e sarà in grado fra qualche tempo solamente di dare un raffreddore comune. Quanto tempo passerà? Io spero di uscirne entro due anni. A parte questa pandemia però c'è un altro problema. Pensate solamente che nel 2003 c'è stato SARS, 2011 MERS-CoV, 2019 SARS-CoV-2, quindi ogni 7-8 anni c'è stato un salto di specie, probabilmente ce ne saranno altri di salti di specie e quando questo salto di specie, questo zoonotico spillovrico, coinvolge il coronavirus è sempre un problema perché sono virus ad alta trasmissibilità e si trasmettono per aerosol.